Melania, primo giorno di ritiro e primo giorno con quello scudetto indossato, fa una certa sensazione? Sì, sicuramente è stata un'annata fantastica, quella dell'anno scorso, sudata e meritata. Quest'anno dobbiamo riuscire a ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso e dare qualcosa in più perché abbiamo un gruppo di lavoro nuovo quest'anno, è importante, c'è tanta voglia di lavorare quindi dobbiamo crescere anche noi. È un po' difficile prepararsi senza avere delle date precise al di là di quelle della Champions League? Quello sicuramente sì, non è un dato positivo, però noi adesso in questo momento dobbiamo riuscire ad amalgamare bene il gruppo, a dare forma a questa squadra, a crescere soprattutto nella tattica.